Ok raga, guardate dove siamo finiti io e Bro Siamo praticamente in una mappa da 100 livelli diversi E la cosa strana è che i livelli non sembrano essere per niente difficili Ma la cosa invece più interessante è che chi vince questa mappa riceve 100 dollari Ovvero 10.000 V-Bucks Anzi in realtà 13.000 se vogliamo essere precisi Comunque Bro, sei pronto? Yes! Sì, quel yes non mi sembrava convincente per niente Bro, sono 100 livelli e considerando i primi 10 solo questi qua Penso che non sia una cosa fattibile Raga, come avete visto abbiamo messo un timer a destra Perché praticamente questi 100 dollari non li vincono tutti Ma li vince chi riesce a completare prima degli altri questo percorso Io vi ricordo raga, un bel like se volete altri video del genere 20.000 like per un altro percorso Ovviamente non dimenticati di iscrivervi al mio canale Il canale di Bro questa è in descrizione e campanellina raga mi raccomando E ovviamente secondo canale, link in descrizione Codice cap nel negozio oggetti, questa raga è fondamentale Dobbiamo arrivare ai 200.000 supportatori che appunto vanno nel negozio oggetti Ci supporta il creatore e inseriscono il codice cap Mi raccomando E ovviamente Instagram che te prezzerò ufficio Detto questo, let's go Il livello 1 è troppo difficile Sì, hai visto il livello 1 Infatti, aspetta, il livello 1 Penso che... Allora, se vuoi te lo spiego Però è un segreto, nel senso è veramente complicato farlo Guarda, devi praticamente effettuare un movimento sinistro Corrispondente al tuo tasto che effettua un movimento in avanti 3, 2, 1, timer partito Da ora in poi sarà tutta una speedrun Quindi dovremo riuscire a completare sta roba il prima possibile Ok, trappo levitata Perfetto, livello 4, raga Ma com'è possibile sta cosa? Mi sembra troppo strano che siamo già a livello 4 Livello 5 Questo qui è un po' più complicato Sono morto a livello 5, però ce l'ho fatta No, ok, riparto, vabbè, giustamente Ma, what? Riparto da indietro, aspetta Faccio così, faccio così Ma com'è possibile sta cosa? Bro, io c'ho un problema Non riesco a fare il livello 4 Il livello 5 Bro, è un grosso problema questo Perfetto l'ho fatto Non so come non chiedermelo Ok, livello 6 Questo qui è veramente troppo easy Livello 7 Vai, finito l'effetto del ghiaccio Bro, sei arrivato anche te a morire? È un grosso morto, sì Ok, io ce l'ho fatta invece a livello 8 Come hai fatto a morire? Facilissimo Ecco come ho fatto Bella dimostrazione, bro, complimenti Primo Oh, ma non ce la faccio, eh Cosa? Ho pagato la trappola E ora come cacchio esco da qua? Bro, c'è un problema? Ok, perfetto Siamo già a 18 minuti e 50 Non so se ce la faremo completarlo Prima dei 20 minuti La vedo difficile come cosa Vai, perfetto Cos'è sta roba? Vi prego Ah, ok, qua devo saltare Non ho capito come si fa sta parte, ti giuro Poi salto perché altrimenti prendo la trappola Questa qui la dozzo e vado qua Ma è una cavolata incredibile Questo livello invece Ma non sono riuscito a sentire Ah, ma guarda, ma guarda te Io non riesco a arrivare No, non ci credo Il livello 100 è molto vicino Ti ricordo che dovremmo completarlo il prima possibile Anche se non ne ho la più pari idea di come si completino quelli dopo Qua è uguale? Sì, qua è uguale, solo che c'è la jump Poi dopo la jump Siamo già a livello dopo Bro, io sono già a livello 12 Cos'è sta roba? Oh, calmini Livello 12 Ok, perfetto Prendiamo la causal checkpoint Qua dove si va? Qua, perfetto Poi Raga Non capisco Aspetta Tipo così, così Perfetto Non so com'è Però ce l'ho fatta a livello 13 Bro Non sono mai andato così veloce in un dettron Ma te continui a morire Sei proprio forte Sei forti No, perché parlo sempre? Dai bro, che quelli livelli lì sono troppo facili Ok, sei già il mio Perfetto Allora, andiamo sopra, sopra, sopra Raga 17 minuti e 25 secondi Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare come bro Livello 14 In realtà ogni livello si complica sempre di più Più Eh già È molto complicato sinceramente Considerando che siamo solo a livello 14 Quindi al 14% della mappa E vedo che i livelli si complicano sempre, sempre, sempre ogni livello di più Comunque raga Ovviamente noi la stiamo facendo senza saperlo Ma in uno speedrun dovremo conoscere la mappa per farlo Ma come lo ti prende il checkpoint? Eh, se muoio è finita Stai scherzando? Bella sta mappa Molto funzionante Complimenti anche l'hai creata Potenzialmente se tu muori ti fa risponare a livello 1? Eh, no Quello là nell'ultimo checkpoint Che mi ha preso E quale sarebbe? Eh, vabbè ormai è questo Ah, ok 16 minuti e 19 Bro, abbiamo ancora molto tempo Però i livelli sono sempre più difficili Non ce la faccio Non ce la faccio Allora Adesso impegno Impegno Ok Non mi riacchiappi più Ma come non ti raccappi più No, dai Oh bro Non c'è qualcosa che non va in me Il mio cervello ha qualche problema Eh, ma bro Non ce la faccio Ti giuro No No, c'è qualcosa C'è qualcosa che non va raga Non riesco a completarlo Ok 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 Io ho superato sto livello infernale Poi Regà, è il primo livello su cui ci metto Ecco Dai che forse ce la faccio Dai che Forse qualcosa riesco a concludere Bro Il 17 What? What? Ok, allora mi sta laggando Vai, risalto Ok, ce l'ho fatta Perfetto Ora Qua? Qua come cavolo fai? Devi doggiare trappole? Oppure Sì, devi doggiare trappole 24 mi sembra 24 Sì, ma qua ci sarò per un bel po', tranquillo Ah ok, perfetto Va bene Allora Tranquillo che nel frattempo ti raggiungo Siamo a 14 minuti Perfetto Bro Questi livelli sono veramente troppo easy Alcuni sono strafacili E altri invece sono stra difficili Ma come faccio? Allora qua raga Non è difficile Non è difficile Basta un po' di impegno per doggiare le trappole Che è la cosa più brutta da fare E soprattutto è la cosa su cui sono meno allenato in assoluto Ok Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Perfetto, perfetto, perfetto Vai, salta Oh mio Dio, all'ultimo Ok Bro, sono a livello 18 penso Non lo so No, forse 20 No, non lo so Non ho ne ho idea Allora, qua dove devo andare Ok, ho capito cosa devo fare E ho capito, troppo tardi Ma che è sto a livello? Che livello sei? Boh Come boh? Non lo so Ok, qua Oh mio Dio Oh mio Dio Qua bisogna farlo subito velocemente Altrimenti si perde l'effetto Poi Qua Devo andare tipo in mezzo a sti cosi E poi devo saltare No, che cavolo è sto livello bro Oh mio Dio Aspetta Devo andare qua Poi qua Perfetto Questo qui è molto easy Ora Sei a che livello sei esattamente? Non lo so Ma cosa c'è da fare? Non c'è più scritto C'è tipo Ci sono i ghiacci Tipo Devo prendere i ghiacci Ci sono i ghiacci Ma te quello lì dove devi lanciare le cose L'hai già fatto? Eh c'è un problema Il secondo La seconda parte Come fai? Hai solo una gran La seconda ti devi buttare e basta Devi azzeccarci La lancio qua E poi subito Veloce sì Ok Oh mio Dio Era così facile veramente? Allora Vado qua Poi vado qua Perfetto Questo livello è super easy Bro Io ancora non ho capito Te dove cacchio sei Però io sono in un brutto livello Allora Vado qua Poi vado un po' indietro Per prendere l'altra bouncer E voilà Cos'è tutta sta roba? Cos'è sta roba che ti uccide? Bro Sono tipo in una stanza tutta verde Ah eh Dove ci sono dei dischi volanti Sì Sono mai morto E devo evitarli? Una cavolata Sì Ok ma Io non capivo che cosa faccio Estro Non so nemmeno cosa succede Sinceramente Perché non l'ho mai preso Eh fidati che Non succede una bella cosa Bro siamo esattamente Alla metà del tempo Oh mio Dio Stavo per prendere un altro Vai di qua Vai di qua Vai piano Vai piano Oh ma come ho fatto a prenderlo Che non l'ho toccato Questa mappa Mi farà impazzire Oh mio Dio Ma basta andare Regà Se vai abbassato Ne eviti veramente molti Io lo sai quante volte Sono morto C'è un livello lungo tosto C'è un livello lungo? Eh Cavolo Pensa che quelli che sto facendo lì adesso Mi sembrano lunghi e tosti Bro Ah ok ho capito Dove devo andare Allora Salta qua Poi vai qua Poi vai qua E poi vai qua Oh mio Dio Che fortuna Aiuto Che cavolo è sta roba Via aspetta Aspetta Doggiamo le trappole Per quanto possibile Ok lo evitate Poi Andiamo qua Andiamo qua Attenti che sotto di noi sono le trappole Andiamo qua Andiamo qua Sono a livello 40 io Livello 40 What? Come cacchio fa a essere così avanti bro Sei un fire Aspetta Allora Qua devo andare qui Poi Nolli Io però invece sono a livello abbastanza difficile Praticamente c'è un percorso verde E ci sono tutte delle trappole Io devo saltare su queste trappole Solo che non capisco come faccio a morire Bro 6 minuti 40 Io mi sa che non ce la farò mai Mi mancano 6 minuti Mancano Sì 6 minuti 6 minuti per raggiungere il livello 100 Forse ce la faccio Come fai? Sei al 45 bro E che c'entra? Ce la faccio eh No non è fisicamente possibile Fidati Se ce la fai bro Non lo so ti do un premio Se ce la fai fidati che ti do un premio Io invece non riesco a fare sto cavolo di livello Che in teoria dovrebbe essere facile Invece non lo è Allora raga Veloci 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 Qua sotto Poi Passiamo così Qua attenti a sti cosi Molto attenti a sti cosi Salta 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 Ora no Il checkpoint Il checkpoint Il checkpoint Il checkpoint Ok Ora ho visto dove è la prossima bouncer Devo andare qua E poi non lo so Ok devo andare direttamente Ho capito Allora facciamo così Facciamo così Facciamo così Ok Ok questo qui l'ho preso Poi questo non l'ho preso Raga questa mappa non è per niente facile Ma proprio per niente Di qua Ok Ora Vai qua Vai qua Perfetto Ora vai qua Ok Ok ci sono No non è vero scherzavo Allora praticamente Sono livello 40 Ti sto raggiungendo Però mancano 3 minuti Quindi sarà bel casino Sai che livello sei esattamente? Sempre 46 o 47 Ok No Vabbè che zullata Cosa 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 No sono proprio stupido Ok Poi Andiamo di qua What? Ah ok ho capito Ho capito cosa devo fare Però troppo tardi Cioè è fisicamente impossibile Mi sa che l'ho fatto senza busti E fisicamente No invece Invece sì che è possibile What? Che figata No 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 Hai ragione Hai ragione Hai ragione Ci fa col busto Qua raga Qua raga ci muoio No non è vero Sì invece No 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 Ah qualcuno è morto Qua qualcuno è morto Eì tipo io Tipo io adesso No ok Vai qua Vai qua Vai qua Sono attivati entrambe Mamma mia Quanto godo Ora Di qua Di qua Oh mio dio sti così 50 bro non ci credo io sono a livello tipo tutto aperto in cui devo saltare su dei robi che mi fanno ribalzare un botto ok ho capito su quale stai no no non ci credo devo rifare anche tutta sta parte dai veloce 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 ma sto tornando indietro sto tornando indietro no bro te sei al 50 ok te hai visto la spiglia 55 tipo oh ma raga ma siamo seri non devo tornare ah non mi ha preso il checkpoint ah ma potevi dirlo subito allora ok andiamo qua veloce 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 no devo saltare su un secondo ho capito andiamo anche qua e ora tutto il diritto si ce l'ho fatta vai 30 bro sono al 45 oh mio dio ma che è tutta questa roba sopra ok 45 raga il 45 raga è difficile si ho finito al 45 ok eh ora ma dove dovrei andare tipo ok devo andare di là ho capito bro 15 secondi a che livello sei eh 60 mi sembra eh non era al 50 eh ero no bro scherzi no no sto scherzando no mi prendi in giro seriamente ma puoi aver fatto così tanti livelli non è fisicamente oddio non è fisicamente possibile bro che cavolo ok ho finito anche il 45 ora qua c'è una roba fighissima no vabbè una generata raga 0 0 bro tempo scaduto tempo scaduto al 60 al 60 wow ah ok non dovevo andare qua ecco perché era rosso bro io sono in un livello in cui praticamente te ti devi lanciare con una non lo so con una speed poi devi andare in verticale e prendere l'unico coso verde saltando in mezzo ai muri ah si ok dopo quello ok ok dopo quello che ho messo tanto io ah ok quello dove è tutto viola uh che figata che è sta roba vabbè qua raga il death run sono morto non la faccio nemmeno dato questo ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione oggi abbiamo fatto un death run veramente veramente figo e siamo arrivati in 20 minuti almeno io a livello 45 se non sbaglio mentre bro al 60 60 wow wow complimenti io vi ricordo raga che se volete completare questa mappa e provare a fare il record per vincere 100 anzi si 100 euro di premio quindi 10.000 V-Buds il codice è quello che vedete qua su in alto quindi 682913782440 mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella per riferire di più altri video di questo tipo ovviamente un bel like se ne volete altri condividete il video con tutti i vostri amici guardate appunto a sfidare i vostri amici in questa mappa mi raccomando codice K nei negozi oggetti se vi è piaciuto e se voi pensate che riuscite a far meglio ah e il codice K è solo per i veri capitani e detto questo ci vediamo ad un prossimo video ciao ciurma che livello si è arrivato bro 62 wow ciao 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 ciao